Ciao a tutti, mi chiamo Velimir e vengo da Traponfsona. Siamo tutti noi abituati a essere visti dai padroni dall'alto in basso ogni giorno per anni e anni di lavoro. Io ormai faccio il magazziniere da 7 anni, anche se ne ho 25, ho cominciato a 18 anni. E sono stufo di essere visto in questo modo e vorrei farvi un piccolo appello. Tutti noi dobbiamo costantemente sempre studiare e essere informati come lo sono i padroni, perché i padroni non dormono pur di sapere con quale legge e regola fregarci e continuare a derubarci e a maltrattarci e a toglierci dei diritti. Paul Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008, li ha definiti i padroni Master of Universe, che vuol dire padroni universali. Questi padroni hanno dei nomi, si chiamano Rothschild, Rockefeller, Soros, che sono i padroni, i grandi padroni, che decidono come e dove si gioca a fare la guerra e con le vite delle persone. I nostri padroni sono molto più piccoli, ma sono comunque molto più grandi di noi. Loro sono potenti perché noi non siamo informati e perché ci tengono divisi. Qua noi per adesso siamo uniti, ma siamo ancora pochi, dobbiamo sempre essere di più, crescere e non smettere mai di informarci. Continuano a cambiare anche le parole con la loro nuova neolingua orwelliana, continuano a inventarsi nuovi termini come termovalorizzatore per dire inceneritore, o come lavoratore flessibile per una persona che lavora per 2 euro l'ora, quando invece è uno schiavo, non è un lavoratore flessibile, è uno schiavo. Io non sono un complottista, io sono una persona che non crede ai fatti ufficiali. Tenetevi informati, stiamo uniti e riusciremo a vincere questa battaglia.